Ben tornati a Radio Design, io sono Nicola Pallum, oggi in compagnia di Serena Logozzo, stilista d'alta moda, responsabile del prodotto, qui docente di modellistica moulage. Benvenuta Serena. Grazie mille. Allora Serena, raccontaci un po' della tua formazione in questo ambito. Allora, la mia formazione è avvenuta presso un'accademia internazionale d'alta moda a Roma, che si chiama Coefia, attraverso la quale ho avuto modo di sperimentarmi e sperimentare anche quello che è il mondo dell'alta moda, con varie esperienze nelle più grandi maison romane, tra cui forse la più grande veramente quella di Valentino. Successivamente ho avuto anche l'occasione di collaborare con il più grande ente italiano d'alta moda, che si chiama Alta Roma, per il quale ho avuto modo di far sfilare progetti miei. E niente, successivamente ho approcciato al mondo del lavoro. Sì, raccontiamo un po' l'attività lavorativa. Attraverso alcune esperienze con aziende che si occupano di abiti da sposa, quindi nel wedding, e questo mi ha dato anche una spinta in più per specializzarmi ulteriormente in quello che è l'abito scultura, che è un ambito in cui Capucci insegna, è un ambito in cui la moda incontra l'arte, ed è una cosa molto 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 interessante a mio parere. Ho partecipato a qualche concorso nazionale e ho avuto anche l'onore di vincerlo. Attraverso queste varie vincite ho deciso di aprire un mio marchio indipendente e di lanciarmi nel mercato del wedding, che dà tante tante soddisfazioni. E oggi sei anche docente di questa modellistica moulage. Di cosa si tratta? Raccontiamolo in due minuti. Sì, da qualche anno sto collaborando con l'Istituto Italiano di Design e tengo un corso di modellistica moulage. La modellistica moulage è una tecnica di modellistica prettamente dell'alta moda, nella quale si approccia al cartamodello e al modello direttamente 3D, quindi direttamente su manichino e non su piano come la modellistica piana, industriale. E questo è un buon connubio tra ideazione, creazione e realizzazione, perché chi si occupa di moulage crea direttamente le proprie opere in 3D e quindi ti dà degli spunti mentali differenti nella progettazione. Invece di disegnare basta bidimensionalmente, ti dà degli spunti aggiuntivi. Ok. E mentre ora stai lavorando anche a nuovi progetti, giusto? Sì, sì, tramite varie aziende locali. Si tratta di start-up, sempre nel mondo della moda e dell'e-commerce. Ok, adesso tu non ci vorrai spoilerare nulla, quindi magari ci rivedremo fra qualche mese e ci racconterai qualcosina di più. Assolutamente. Va bene, grazie mille, Sirena, e alla prossima intervista. Grazie a te e ciao.